Beh, oddio, stare lontana dalla gente con la mia intolleranza al genere umano non è che mi facesse così schifo, però sì, è bello tornare a suonare! Ognuno ha le sue intolleranze, c'è la toga, non è l'ultima di me, non è l'ultima di me, ma se cambiassimo atmosfera! No, no, no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.